Sport, cultura e musica per gridare no alla mafia. Ieri sul lungomare Paolo Toscanelli si è svolta la manifestazione Ostia Siamo Noi, organizzata dall'associazione Noi. Attori, cantanti, calciatori, scrittori hanno preso parte all'evento che ha avuto inizio alle 16 sull'ex spiaggia libera Faber Beach con un doppio torneo di calcetto per ragazzi accompagnato dalla speciale telecronaca di Carlo Zampa. Alle 19 presso il Faber Village Federica Angeli ha presentato il suo libro A mano disarmata. Presente anche l'attrice Claudia Gerini che interpreterà la giornalista di Ostia nel film diretto dal regista Claudio Bonivento. Ha fatto da cornice alla manifestazione la mostra Ad Lucem del fotoreporter Alex Mezzenga. Il progetto si ispira a tutte quelle persone che, come Federica Angeli, si impegnano per vivere in un mondo migliore e senza ingiustizia, ha dichiarato Mezzenga. Tutti possiamo contribuire a sostenere la sua lotta che è diventata anche la nostra. Un grazie particolare, ha aggiunto il presidente dell'associazione Noi, Massimiliano Wender, oltre che alla Regione, va agli amministratori giudiziari che ci hanno permesso di poter svolgere questa manifestazione nei beni confiscati ai clan. Un messaggio potente di legalità. Ci riprenderemo a Ostia, quella stessa Ostia che ci è stata sottratta da chi, fino ad oggi, pensava che il proprio dominio fosse indiscusso, ha concluso Wender. L'evento è terminato al porto turistico con il concerto di Caccamo a Mara Neck Fabrizio Moro.